Alla fine è stata decisa da un episodio, potevate segnare voi con un zama, hanno segnato l'oro, sono stati puniti quando la partita sembrava ormai incanalata sul giusto pareggio. Siamo partiti forse in confronto alle altre partite, abbiamo fatto 15 minuti sotto dono, poi a lunga siamo usciti, penso che alla fine del primo tempo abbiamo avuto un palo con un zama, un'altra situazione sempre con Vale. Queste partite secondo me sono partite che non sono tanto belle da vedere, ma l'episodio alla fin fine è stato a favore loro, perché sono una palla inattiva, in questa categoria fanno la differenza. Se avresti meravigliato di più un po' come contro il Carlino, alla fine... Sì, alla fine secondo me sono partite, durante il campionato saranno super giù partite tutte equilibrate, trovi squadre come Bellone, secondo me che, io avevo detto, stava in un'ottima forma, ci ha messo in difficoltà su alcune situazioni, sapevamo che potevamo andare in difficoltà, eravamo preparati su questo, secondo me il pareggio sarebbe stato risultato giusto visto quello in campo, però alla fine degli episodi fanno sempre la differenza.